Sono Costanza Colombo, ho 37 anni e fin dai tempi dei miei studi universitari in ingegneria aerospaziale mi sono appassionata alla scienza dei metalli e alla failure analysis. Sono arrivata in Agrati a fine maggio 2020, quindi pochi giorni dopo la fine del primo lockdown. È stato bello constatare come sia stato possibile sentirmi accolta e al sicuro in un periodo in cui era ancora difficile, per dirne una, reperire le mascherine. Buona parte delle mie attività lavorative si svolge infatti nel laboratorio della Grati Tech Center a Vedugio, che è sede della funzione di gruppo Innovazione, dove ho iniziato come testing engineer e adesso ricopro il ruolo di Innovation Metallurgy Specialist. Faccio parte della squadra di supporto tecnico e ricerca soluzioni innovative, in primis per i clienti esterni, ma anche in parallelo naturalmente per tutti i colleghi delle varie funzioni del gruppo. Nel mio lavoro in Agrati mi piace la varietà di stimoli non solo tecnici, ma anche internazionali e professionali. Inoltre apprezzo sempre come la curiosità sia vista come un preso e non un difetto, ma soprattutto apprezzo il fatto che ci sia sempre l'opportunità di imparare il mestiere sul campo, che si tratti dello stampaggio oppure di argomenti legati all'impiantistica, passando per i trattamenti termici e l'attrezzeria, proprio da tutti quei colleghi che portano avanti le complessità del nostro processo produttivo, che si tratti di un collega laureato oppure di un operaio con vent'anni di esperienza sulle spalle. Un'altra cosa che mi piace del mio lavoro in Agrati, oltre alla crescita professionale, è avere l'opportunità di migliorare le mie capacità manageriali e infatti per questo sono stata inserita in un programma di mentorship in affiancamento a un senior manager che mi sta supportando nel mio percorso di crescita. La mia aspirazione per il futuro è quella di continuare a contribuire all'innovazione dell'azienda, sia a livello tecnico che non, grazie alla mia passione e all'entusiasmo per queste discipline. Grazie a tutti. Grazie a tutti.